Se l'aria è pulita, è l'acqua più chiara, qualcosa è successo, che cosa sarà, se tutto è silenzio, le strade sono vuote, il primo giorno di primavera. Se sbocciano i fiori, e l'aria è più dolce, vuol dire che tutto, è come sempre, ma non è così, qualcosa è successo, non posso neanche, uscire di casa. Se l'aria è pulita, è l'acqua più chiara, qualcosa è successo, che cosa sarà, se tutto è silenzio, le strade sono vuote, il primo giorno di primavera. Forse è solamente un incubo, che al risveglio, svanirà, ma se l'aria è più pulita, c'è qualcosa che non va.